L'esperienza che abbiamo provato a realizzare della rete delle città in comune cerca di essere quantomeno un tentativo di costruire una risposta rispetto alla chiusura degli spazi democratici, cioè queste nostre liste in questi anni partono da un presupposto, cioè provare a rimettere insieme un tessuto sociale, una rete sociale nelle città e a partire dai territori riuscire a fare una proposta programmatica che mette al centro la questione della partecipazione e della democrazia, esattamente l'opposto di quello che avviene con la riforma costituzionale. Questo è l'elemento di fondo su cui noi sfidiamo i sostenitori del sì. Andate a confrontarvi nei piccoli comuni, perché tantissimi consiglieri comunali e sindaci di piccoli comuni hanno sottoscritto questo appello in cui sostanzialmente il percorso delle città in comune si è messo a disposizione, perché oggi i comuni sono esautorati. Io sono consigliere comunale da tre anni, vi inviterei a seguire un consiglio comunale che ormai non decide più niente. Noi abbiamo un espostamento sugli esecutivi fortissimo dei livelli discessionali. Dalle questioni del bilancio alle grandi varianti passano tutti attraverso gli esecutivi. Queste riforme servono ulteriormente a distruggere le autonomie locali e a centrare i poteri. Noi pensiamo che non si possa, in nome di un falso mito che è quello della governabilità, istautorare la sovranità popolare. Questo è il meccanismo. Per noi se c'è un primato programmatico che portiamo avanti è quello del riconoscimento dei diritti e delle giustizie sociali. Gli enti locali oggi vengono strangolati dalle politiche nazionali, non hanno più risorse e al contempo si tolgono da un lato le risorse e dall'altro lato si toglie la possibilità ai cittadini di intervenire sulle decisioni fondamentali che li riguardano. La questione delle grandi opere, la tutela del territorio, le politiche sulla sanità, le politiche sul lavoro. Di tutto questo non c'è traccia nella gestione che questa riforma vuole realizzare. Allora l'antidoto che noi proponiamo in questo momento è ripartire dai territori. Io rappresento uno di quei comuni che il 4 febbraio ha votato a maggioranza una mozione del Consiglio Comunale perché noi riconosciamo quella come assemblea elettiva e il luogo deputato a prendere decisioni con un chiaro no alle riforme. Se un Consiglio Comunale ha deciso di esprimersi su questo ciò nasce da un'esigenza. Io ricordo che i sindaci quando si insediano giurano sulla Costituzione. La rete e le città in comune giura sulla Costituzione ma perché ne vuole la sua attuazione. Noi siamo per il cambiamento. Per noi cambiamento significa attuare tutte quelle parti della Costituzione che oggi non sono attuate. Dall'articolo 42 sulla funzione sociale e la proprietà privata fino al diritto alla casa e al lavoro.